Il pomeriggio, ci stiamo rilassando dopo pranzo della serie L'Avventure del Tucano Vai David, tocca a te David, ma questo ragazzo da quando è arrivato non dice una parola, ti vuoi muovere, tocca a te Non è possibile, ma chi me l'ha mandato questo, chi me l'ha mandato, ma chi ti ha fatto il colloquio, sei una testa di marmo, sei Non ti muovi proprio, da quando sei arrivato non hai detto una parola, ma chi ti manca? Chiama in agenzia, chiama Io chiamo in agenzia e mi incazzo perché ogni anno mi mandano Chiama in agenzia, chiama Non è possibile Non è possibile Ma chi me l'ha mandato questo, fatti sono Giacomo, ma chi mi avete mandato questo David? Appena è arrivato, non dice una parola, non si muove, ma non è possibile Io sono qui col Tucano e stiamo passando, abbiamo appena finito di mangiare, non è possibile Non mi potete mandare questa gente ferma, immobile, che non dice una parola Ma non si può Allora, la butti giù sta carta o no? Niente, oh, non si muove proprio, non dice niente Che cosa ne pensi, oh Tucano? Da quando è arrivato non partecipa nessuna attività, neanche al gioco a piscina, sta ferma il immobile, sta ferma il immobile, questo qua io ho fatto il colombio Gigi Camassa Giusto, secondo me anche Anche secondo me Non è possibile, Gigi Camassa è sempre il solito Vabbè, comunque dai, passa il turno David, tu rimani lì fermo come un pirla Dai, butta Grazie a tutti Grazie a tutti